oh fermi un attimo questi video pedagogico educazionali motivazionali strategici apriamo un attimo le orecchiette le orecchiette aprire fermiamo un attimo il mondo no non c'hai tempo per farlo te lo do io il tempo per fermare il mondo adesso tre minuti ma che proprio non c'è nient'altro che la vita quella vera altro che internet tre minuti di fermare il mondo pronto fermiamolo un attimo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.